Città e provincia hanno retto bene l'urto della prima neve. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, i più importanti a Quinto Vicentino, dove poco dopo le 21 un uomo che era rimasto incastrato con la gamba tra l'auto e la muretta sulla rampa del garage è stato liberato. Oppure a Vicenza, in via Rossini, per un albero caduto nella notte sopra una macchina. I mezzi di IAIM fino alla mezzanotte hanno lavorato spargendo 90 tonnellate di sale su oltre 950 chilometri di percorrenza stradale. Dopo le 24 altri 9 mezzi hanno continuato a liberare la viabilità. A collaborare anche i richiedenti asilo nelle zone di Viale Trento, Viale Mazzini e Adiacenze, soprattutto agli accessi dell'ospedale. L'attenzione rimane alta ma soprattutto il messaggio va ai cittadini affinché tengano liberi i marciapiedi che sono di loro competenza. Grazie per la visione!